In nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, vi voglio invitare ad iscrivervi al mio nuovo canale su YouTube dal titolo Don Enrico Maria Roncaglia. Così anche quelli che non possono ricevere Facebook potranno accedere alle mie piccole catechesi attraverso appunto internet e YouTube. Riceverete in questo modo in tempo reale le notifiche ogni volta che un video viene pubblicato. Questa sera voglio parlarvi dell'argomento ancora del sacrificio della Messa e arriviamo proprio al cuore della questione. Cioè ci chiediamo in che cosa consiste dunque il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. La risposta è questa. Gesù ha accettato, ha accettato liberamente, consapevolmente, volontariamente, il supplizio che i Romani gli hanno inflitto. Nella passione e nella morte in croce. Un supplizio che è stato possibile soprattutto grazie alle insistenze e alle macchinazioni delle autorità giudaiche. Dobbiamo aggiungere il rifiuto del popolo ebraico. Dobbiamo aggiungere l'abbandono dei discepoli, il tradimento di Giuda. Gesù ha accettato liberamente, consapevolmente, volontariamente tutte queste cose per amore nostro e soprattutto per obbedire, per amore e obbedienza verso suo Padre. Il Padre suo, Dio Padre, dall'eternità aveva pensato di salvare gli uomini, di redimere gli uomini, attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Quindi è un sacrificio offerto per amore nostro e per obbedienza al Padre. Un sacrificio che ha un valore infinito. Tutto quello che Gesù fa ha un valore infinito. Ecco che possiamo fare un paragone. Possiamo fare un paragone forse con la morte dei martiri. Quando un martire viene ucciso, quando un martire va incontro alla morte, è perché ha una grande fede. Ha una grande fede e fiducia in Dio. Si abbandona a Dio. E perché ha una grande carità. È frutto dell'amore, è frutto della fede, la sua morte. Inoltre, quando un martire muore per amore di Dio, offre a Dio un onore grandissimo. E diventa come una stella per la Chiesa, una stella di gloria. Le glorie della Chiesa sono i santi martiri e ci danno anche tanto conforto con il loro ricordo e con il loro esempio nelle difficoltà della nostra vita. Se questo è vero per un martire, pensiamo quanto più sarà vero in riferimento a ciò che Gesù ha fatto per noi. Ecco, la sofferenza di Gesù è stata grandissima. Non si può calcolare. Quindi la fortezza del suo animo, un animo fortissimo, nell'accettare, nell'affrontare tutte e singole le tappe che lo hanno portato alla morte in croce. Poi l'abbandono al Padre, Padre sia fatta la tua e non la mia volontà, la carità che Gesù aveva nel cuore. Insomma, il paragone tra Gesù e anche tutti i martiri messi assieme non tiene. Il sacrificio di Cristo è infinitamente più grande. Tanto che eclissa tutte le altre offerte, le migliori offerte, i migliori sacrifici che l'umanità può offrire a Dio. Quindi, oltre ad avere un valore infinito, aggiungiamo, aveva questo sacrificio di Gesù Cristo una grande dignità. Perché è la dignità che deriva dal Figlio di Dio stesso, che è Dio, non è solo uomo, è Dio, quindi è Santissimo. Chi più di Lui è degno di presentarsi al Padre. Aggiungiamo questa considerazione che Gesù avrebbe potuto salvare il mondo anche solo con una lacrima versata per il dolore. Però ha voluto strafare, ha voluto fare di più, ha messo anche sul piatto della bilancia per redimere l'umanità, ha voluto mettere tutto l'amore del suo cuore umano, ha voluto mettere anche tutto il dolore che poteva sopportare come uomo. Quindi c'è tutto Gesù in questo sacrificio, la sua divinità e la sua umanità. In questo modo non solo ha pareggiato la gravità dei peccati del mondo, ma ha sovrabbondato ancora di più con la sua grazia. Tanto che San Paolo dice, laddove ha abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia di Dio. E ricordandovi ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube Don Enrico Maria Roncaglia, vi do il mio saluto e la mia benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sielo dato, Gesù Cristo.